Studio, riflessione, meditazione, lavoro, videogiochi, cosa hanno in comune tutte queste attività? Sono tutte riconducibili ad attività cerebrali, che di tanto in tanto hanno anche dei cali d'attenzione e ci piacerebbe tenerli meglio sotto controllo. Ed ora in poi potremo farlo, come? Con il nostro iPhone o con il nostro iPad. E perché è nata una nuova applicazione che si chiama X-Wave, ci basterà un auricolare. Guardate come. La californiana PLX Devices ha sviluppato X-Wave, un'interfaccia compatibile con iPhone e iPad e progettata per assistere gli utenti nei videogiochi, nello studio e nella meditazione. X-Wave è la prima interfaccia cerebrale per questo tipo di dispositivi e si indossa sopra la testa come se fossero un paio di cuffie. Funziona sfruttando le tecnologie di frontiera come NeuroSky ed eSense, che percepiscono fino ai più flebili impulsi elettrici, trasmessi attraverso il cranio alla superficie della fronte e li convertono in segnali digitali. Il prodotto è stato progettato per l'intrattenimento, ma potrà essere anche applicato in futuro ad altri usi relazionati alla stimolazione o alla verifica delle attività cerebrali. Con X-Wave potremo avere il monitoraggio delle nostre onde cerebrali, passando attraverso strumenti che appartengono alla nostra quotidianità, come l'iPad, come l'iPhone. E io mi chiedo, quale sarà il passo successivo? E sul passo successivo dovremo stare molto attenti, perché potremo variare dall'universo del comandare le cose con le nostre onde cerebrali a quello dell'essere controllati e verificati attraverso semplici strumenti wireless. A questo bisognerà che stiamo attenti.